L'Expo 2015 ha definito la desertificazione come la sfida ambientale più grande del nostro tempo. Ha organizzato un convegno sui deserti e un altro sulle acque sicure e il dissesto idrogeologico, ma di irrigazione non ha mai parlato, tranne che per lodare il padiglione di Israele e il suo cosiddetto campo verticale, dove però sono state notate piante che rinsecchiscono. Ma è una parola sulla rete di corsi d'acqua della pianura padana, dando seri motivi alla protesta del Consorzio Irrigazioni di Via Battisti. Una delusione coccente per il presidente Umberto Brocca. Un miliardo e mezzo di persone patisce le drammatiche conseguenze del degrado del suolo, tuttavia il rimedio, cioè un sistema irriguo ecologicamente compatibile, non viene nemmeno indicato. È stato del tutto assente dal programma dell'esposizione milanese il sistema che ha impedito all'acqua di fluire dalla Lombardia verso il mare, grazie a un rapporto regolato fra rogge, canali, fiumi e laghi, realizzato in secoli di lavoro per tutelare sia l'ambiente che la possibilità di coltivare. Bonifiche e irrigazioni sono state realizzate proprio in Israele, grazie alle tecniche inglesi e padane, tuttavia nessuno tra i visitatori esteri di Expo ne è stato informato. Uno dei pregi della storia dell'agricoltura e dell'ambiente di Cremona è stato cancellato in modo sistematico e incomprensibile.